Buongiorno a tutti ragazzi e ragazze siamo in una posizione molto ma molto strana e oggi faremo praticamente il video ASMR e ovviamente qui ho tanti slime da farvi vedere e ve li farò vedere con chi sono fatto poi ovviamente ci metto tipo i glitter di sopra per fare una cosa così ci metto anche tipo una colla in mezzo per farlo più morbido e così via allora iniziamo subito con questo qui e questi sono gli slime che vi ho mostrato nello scorso video a ver se mi ce l'è senare a ver se mi ce l'è senare che vi ho mostrato a mezzo e la tornare e guarda un po' di più e la tornare e la tornare Grazie a tutti 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 Grazie a tutti